La direzione, le donne e i uomini della polizia penitenziaria, i dipendenti e tutte le figure che a vario titolo collaborano con la Casa Circondiale di Ivrea, nonché i detenuti, noi tutti, vista l'emergenza che sta affliggendo il nostro paese, intendiamo dare vita ad una raccolta fondi che sarà devoluta all'ospedale di Ivrea per sostenere gli operatori sanitari e i pazienti in questo momento di difficoltà. Ora estendiamo a tutti voi un invito a collaborare in questa iniziativa, perché insieme e uniti ce la faremo! Grazie a tutti!